Buon lavoro a tutti! La prima parola della settimana è benessere. Nuovo spazio dedicato al fitness di Intesa San Paolo. Si trova in via Gioia 22 a Milano, 500 metri quadrati per una pausa di energia, proposto ai dipendenti a un prezzo simbolico 180 euro all'anno. Un'altra buona ragione è per andare in ufficio oltre che per incontrare i colleghi e fare networking. La seconda parola chiave della settimana è inclusione. Enel ha invitato i dipendenti a vestire la diversità come condividendo una foto con le calze una diversa dall'altra. È un gesto simbolico ovviamente dietro al quale ci sono una serie di iniziative dal master care di supporto a chi assiste un volontario all'ability parent care o assistenza ai genitori di figli con disturbi dell'apprendimento o forme di disabilità. Ciascuno, ricordiamocelo, è diverso. La terza e ultima parola della settimana è premiare. Bisogna premiare chi fa piuttosto che criticare. Lo ha detto la CEO di Sacla Chiara Ercole. Manager di 41 anni con 250 dipendenti dice anche un'altra cosa molto importante. tra dieci anni la Sacla sarà ancora più grande nel mondo e più forte ma con il cuore qui, qui appunto in Italia. Bene così. Buon lavoro a tutti.